Buonasera a tutti, ho seguito a diverse lamentele per problemi di audio, ho rispettato le cuffie da videogioco, poi mi direte magari nei commenti se va meglio rispetto agli ultimi video dove avete in diversi riscontrato. Veniamo però ai mercati, oggi devo dire che è stata una seduta abbastanza complicata perché non possiamo parlare di volatilità al di là del fatto che in intraday abbiamo assistito a nuovi massimi, o meglio stiamo assistendo a nuovi massimi storici di Standard & Poor's 500 e di Nasdaq, però è ed era ovviamente sull'Europa concentrata maggiormente l'attenzione degli investitori dopo le elezioni francesi. Il mercato ha reagito bene nella prima parte di giornata, poi bisogna riconoscere che c'è stata una correzione abbastanza significativa invece nella seconda parte di giornata e come vedremo tra poco ci sono tante shooting star quasi gravestone doji come candele giornaliere su diversi indici. l'America ormai fa un po' una corsa a sé e sinceramente al momento non vedo neanche particolari condizioni per ulteriori, cioè perché non ci siano ulteriori rialzi anche se siamo in fortissimo ipercomprato. Di certo guardavo prima i dati macro, oggi non c'era granché ci mancherebbe, però questo dato sulle aspettative di inflazione della Fed che è risultato pari al 3%, mentre lo scorso mese di maggio erano al 3.2 e ad aprile erano al 3.3. Vi condivido però lo schermo e veniamo come al solito all'analisi qua, scusate che c'è il circle perché c'è stato, spero di ricordarmelo dopo, il prezzo finalmente della BB. Vedete che anche però sul DAO pur avendo raggiunto, anzi superato in intraday il primo target che vi avevo indicato 39,571 una shooting star perché il massimo è stato a 39,655 però poi c'è stata una correzione abbastanza significativa. Io rimango ancora piuttosto positivo e vi dico che il primo obiettivo è il massimo del 23 di maggio 39,694. Vedete standard report 500, nuovo massimo storico a 5.583 però quello che stupisce il negativo semmai è il range davvero molto stretto, minimo 5.562, massimo 5.583. Nasdaq Composite nuovo massimo storico a 18.416, anche qui abbiamo sino ad ora un range veramente molto ristretto 18.342, 18.416. Nasdaq 100 anche qui nuovo massimo storico 24.42, range 23.63, 24.42. Fa sempre più fatica il Russell 2000 che oggi peraltro aveva provato intraday a battere un colpo perché era riuscito con un massimo a 2.050 superare sia la media mobile a 100 2.042 che la media mobile a 50 2.044, purtroppo poi ha ritracciato quindi siamo ancora nel trend range compreso tra 2.019 e 2.057. In Europa vedete il DAX, questa Shooting Star quasi gravestone doji, massimo 18.631, chiusura 18.472, fortunatamente però sono tre sedute consecutive che il DAX riesce a chiudere sopra la media mobile a 50 e adesso transita a 18.426. Il primo obiettivo comunque rimane 18.784 e poi 18.855, considerate che poi i massimi storici sono a 18.892, toccati il 15 di maggio. La correzione maggiore dai massimi di giornata l'ha fatto proprio il caccarat, perché era riuscito a superare i massimi di breve periodo intraday, tornare a 7.746 ma poi è chiuso a 7.633 appena sopra la media mobile a 200 che è 7.630. quindi diciamo che rimane per il momento l'ampio trend range compreso tra 7.456 minimo del 28 di giugno e 7.746 che è il massimo di oggi. Eurostock 50, vedete che anche qui abbiamo una Shooting Star quasi gravestone doji, massimo 5.029, chiusura a 4.969 quindi chiusura appena sopra, media mobile a 104.968 ma sotto la media mobile a 50, 4.985. Per l'Eurostock 50 però vale un po' quello già detto per i DAX, può tornare a 5.042 poi 5.077, 5.082. Eurostock banks anche qui abbiamo una Shooting Star massimo 144.26, chiusura a 142.23 quindi in close ha perso la media mobile a 50 che è 142.8. C'è da dire che però qui sui 141.26, 141.51 sta creando una buona base per cui non posso escludere un tentativo di ritorno fino a 146.33 massimo del 7 di giugno. Fuzzini futures, vedete anche qui ennesima Shooting Star con al momento un tentativo però di tenuta della media mobile a 50 che è 34.178. Vediamo proprio in tempo reale, sta facendo in realtà 34.160 in tempo reale. Comunque in ogni caso il massimo odierno è stato 34.630, il target era un po' più in alto 34.685. Per il momento vedete che questa rialzista partita dal minimo del 14 giugno sta tenendo egregiamente magari potrebbe esserci un mini ritracciamento 33.8.10, 33.740, media mobile a 100. Mid cap anche qui c'è stato un tentativo di rottura massimo 48.256, chiusura a 49.7, però rimane ancora la possibilità di arrivare fino al massimo del 28 di maggio 48.5.34. Proseguiamo col Fuzzini Star, Fuzzini Star meno bene, però devo dire che rimane ancora in questo trading range di breve compreso tra 47.8.34 e 48.494 e come vi avevo già detto non posso di certo escludere la possibilità di un ritorno fino al massimo del 28 di maggio 48.8.92. Contratti siamo in questo momento poco sotto 13.000 per cui in leggera salita e anche in leggera salita di scambi complessivi 2.266.000, prima delle aste erano 1.749.000 e ringrazio come al solito Reinato. Veniamo adesso invece ai titoli che hanno fatto meglio e quelli che hanno fatto peggio a livello di Fuzziniib. Sempre protagoniste le banche, in particolar modo la triade Piper-Montepaschi-Unipol. Tra le notizie che ho trovato, in questo caso vado del più classico ambasciatore non porta pena, le cooperativi azioniste delle holding sarebbero pronte a sostenere un'eventuale operazione riguardanti le tre società, Biper-Montepaschi-Unipol. Andiamole a vedere graficamente. Cominciamo con Biper. Biper oggi supera addirittura il massimo di periodo 5.308, fa un massimo a 5.396, chiude però a 5.294. Graficamente però c'è la possibilità di salire ulteriormente, direi che possiamo parlare di 5.61.1 agosto 2015, 5.85.1 e parliamo in questo caso di luglio 2015. Montepaschi-Montepaschi-Massimo intraday 5.066, chiusura 4.977, obiettivo 5.22.8, poi massimo 17 di maggio 5.36.4. Unipol, un nuovo massimo di breve 9.72 e mezzo, chiusura a 9.71, qua avevamo già visto quel livello, andiamolo a ricercare nuovamente sul time frame settimanale per non dare dei livelli veramente troppo eccessivi, 10.18, massimo terza settimana di maggio del 2011. Proseguiamo con Sondrio, Popolare di Sondrio, vediamo che oggi è stata sostanzialmente respinta dalla media mobile a 107.11.4, però può ancora raggiungere la media mobile a 57.24.3 e poi il massimo del 22 di maggio che è 7.35. Fortunatamente la Formula 1 non incide, non ha mai inciso sull'andamento in borsa del titolo Ferrari perché anche la gara ieri a Silverson è stata, almeno per il mio Leclerc, un pianto greco, massimo intraday 397.8, chiusura 396.5, obiettivo 404.9, massimo del 7 di maggio. Panca Mediolanu, oggi ha sicuramente dato un segnale di quantomeno tenuta, direi che però per il momento possiamo parlare di trading range compreso tra 10.25 e 10.75. Ancora bene Finico, lasciato un gap aperto sul massimo di venerdì 14.94, ha fatto però una shooting star, massimo 15.29.5, chiusura 15.055, obiettivo della chiusura del gap l'ha sotto aperto sul minimo 17 di maggio, 15.56.5. Inveco, è stata ribattuta la notizia della commessa in Brasile per 420 vicoli corazzati da 230 milioni, tra l'altro, prima non vi ho detto di Finico, che era uscita la settimana scorsa, se ne abbiamo già parlato, la raccolta netta di giugno, 997 milioni, superando per il quarto anno consecutivo la soglia di 5 miliardi nel primo semestre, poi c'è il buy di Jeffries. Iveco si comincia a fare molto interessante perché questa ha tutta l'area di essere a questo punto una fase accumulativa, la media mobile a 200 che adesso passa per 10.136, fa da supporto e mi sembra che Iveco possa raggiungere prima 10.92, poi 11.095, quindi la media mobile a 50, 11.138, quindi situazione veramente molto interessante per Iveco. Banco BPM, massimo intraday 6.46.4, chiusura a 6.37, obiettivi 6.49.6, 6.57.6. Azimut, sono usciti i dati sulla raccolta buoni, pensavo a qualcosina ancora di più entusiasmante mentre si è fermata sulla resistenza di area 23, cioè questo 23.04, massimo 14 giugno, il microgap è più della 23.08, poi si va direttamente sulla media mobile a 200, 23.63, poi massimo 11 giugno che è a 24. poi direi che non c'è moltissimo altro per cui facciamo magari i titoli che so essere più seguiti da voi, intesa che fa Shooting Star con massimo 3.62.4, chiusura 3.56.6, ma questo non toglie la possibilità di un ritorno a 3.65.5 e poi sulla chiusura del gap è stato aperto sul minimo 17 di maggio, 3.72.85. poi ancora STM, che è un altro titolo che so essere seguito da molti di voi, si è fermata poco prima della media mobile a 139.53, ha fatto 39.37, poi ha chiuso a 39.085, obiettivi, adesso diventano 40.065, e poi la media mobile a 200, ovvero 40.45. Unicredit che fa un nuovo massimo di periodo a 37.76, ma poi chiude a 37.13, anche qui siamo in presenza di una Shooting Star, andiamo a rivedere a livello di time frame settimanale dove può arrivare il titolo, avevamo già visto, direi che questo movimento potrebbe arrivare fino a 34.82, scusate, 38.18, poi adesso occupiamoci un po' dei titoli invece che si sono comportati peggio e purtroppo ce ne sono, cominciamo da Saipem, vi avevo già detto che secondo me Saipem era un po' arrivata e purtroppo sta confermando la mia impressione, tra l'altro oggi Stefano Sabetta che fa questo lavoro certosino sulle posizioni di nette corte a Toco, con tutto il mio amico Emerick sulle posizioni di nette corte, in Toco Trading di Class NBC, ha ribadito che Saipem è sempre il titolo con maggiori posizioni di nette corte, c'è questo 2.24.7, microcabria qui da 2.24.4, poi media mobile a 50, 2.21.9, minimo 25 di giugno, 2.17.9. Campari, Campari aveva un po' illuso, devo dire la verità, non me lo aspettavo oggi un ribasso così significativo, a questo punto dobbiamo parlare di trading range compreso tra 8.52.4 e 8.916, che è proprio il massimo di oggi. Ankerg abbastanza deludente, però c'è da dire che il titolo rimane in un trading range compreso tra 23.22 e 24.5. Non lo cucina lì, continua a faticare, io come sapete ho uno stop piuttosto rigido, nel senso da rispettare assolutamente sotto il minimo, 19 di giugno, 89.5, primo alert rimane la media mobile a 200, che è 90.4, continua la sua fase di correzione, Amplifono oggi perde anche la media mobile a 200, 30.87 e sembra voglia portarsi sul doppio minimo sporco, 30.01.29.87, poi sul minimo 19 di gennaio 29.18. Inuit, anche Inuit per il momento non è ancora una situazione del tutto compromessa, però non deve perdere assolutamente 9.57.5. Se dovesse perdere anche 9.57.5, che è il minimo della congestione di breve, vedremmo il titolo prima a 9.39.6 e poi a 9.14.6. Via Sonin, però qui una correzione dopo rally importantissimo di breve, probabilmente nelle prossime sedute si muoverà tra la chiusura del gap lasciato aperto sul massimo del 2 luglio, 96.48 e il massimo del 5 luglio, che è 100.55. Faccio ancora Tenaris, perché io continuo a mantenere, però il titolo continua a fare veramente fatica, se dovesse effettuare una chiusura giornaliera inferiore a 13.98 sarò costretto a chiudere la mia posizione rialzista su Tenaris. Concludo su Prismian, perché io vi ho già detto che Prismian la vedo sempre più votata a una fase di correzione, media mobile a 50.57.11, poi 56.48, 56.34, quindi minimo del 14 giugno 55.42. Adesso andiamo fuori dal Fuzzi Mib e dobbiamo cominciare con Finanza Tech. Io non vi nascondo che oggi, perché devo stare un po' dietro alla sistemazione del nuovo appartamento, ho seguito con minore costanza rispetto al solito, per cui Finanza Tech mi era anche scappata, però devo dire che il segnale è molto importante, perché massimo entrerai 1.06, importantissimi volumi. Adesso il target diventa 1.10, massimo primo di marzo, e poi direi che si va addirittura 1.23, massimo 9 di marzo, ma del 2023. Vedete che sul settimanale si vede ancora meglio, vedete questo primo target e poi questo secondo target, quindi veramente molto molto bene Finanza Tech. Poi bene oggi anche Exprevia, Exprevia perché sinceramente questa bellissima Marobot Wipe 1.85206 ha anche volumi, devo dire, decisamente più interessanti del solito. Metto un time frame settimanale, perché direi che fino a 2.18 il titolo ha ancora spazio, anche 2.23. Sono livelli che non vede dal marzo 2022, qua siamo inizio febbraio 2022. Poi vi avevo già detto di Gismondi. Gismondi non sta scambiando come suo solito peraltro molto, però vedete che continua la sua fase positiva, media mobile a 200 ormai a portata 4.01 e di conseguenza il titolo potrebbe arrivare fino a 4.10, poi 4.20, 4.24 e 4.25. Fincantieri, nonostante sia sotto aumento, forse perché è sotto aumento, questa settimana i diritti non sono più in negoziazione, ma è possibile avere aumento fino a venerdì e mi sembra che ci sia lo spazio per donare a 5.37, 5.40, poi sul massimo del 13 giugno che è 5.61. Poi vi avevo già detto di quanto sia comprata BFG in questo momento, io devo dire che ho sfruttato male questa intuizione che avevo avuto, perché avevo capito già da qua, area 3.80 che il titolo fosse in rampa di lancio, praticamente da quando c'è il nuovo corso, questo come vedete è un nuovo massimo storico, per cui si apre veramente un'autostrada per il titolo. Poi ha chiuso proprio sui massimi storici a 3.15, quindi veramente molto molto. Poi direi che possiamo parlare di Fidia, perché Fidia, vedete che è stata purtroppo respinta dalla media mobile a 200, 0.73.7, ha fatto un massimo a 0.74, poi ha chiuso a 0.69.2, però sinceramente mi dà l'idea che il titolo possa tornare a 0.78 e poi sul massimo a 0.81 di maggio che è 0.81.2. Poi bene anche ISCC Fintech, sembra voglia portarsi prima sulla media mobile a 200 e 3.086, poi direi sul massimo del 21 di febbraio, che è 3.32 TXT. TXT è veramente molto molto bene, siamo ormai nuovamente vicini, vicinissimi al massimo storico del 14 giugno 26.5, e poi anche qui si apre, come vi ho detto prima per BFG, un'autostrada vera e propria. Ecco, vi dicevo di Altea. Altea continua, secondo me, a essere interessante. Oggi massimo intraday 7.37, chiusura 7.22, ma titolo che potrebbe tornare prima a 7.52, poi 7.64, quindi 7.71, avendo media mobile a 50, 7.78, media mobile a 100, 7.86. Poi, facciamo anche Redelfi per farvi vedere la differenza, quantomeno di breve, vedete che Redelfi continua a essere invece in laterale sui minimi di periodo, c'è da dire però, come vi ho già ampiamente detto, che finché non perde il doppio minimo sporco, 4.79, 4.80, c'è sempre la possibilità di un rimbalzo almeno fino a 5.25, 5.29. Banco Desio, Banco Desio è un engulfing bullish, questo significa che può tornare prima sulla media mobile a 50, 4.86, 2, poi 4.89, 4.92. Ancora comprata tecnoprobe, nonostante abbia dei multipli oggettivamente molto impegnativi, massimo intraday 9.65, 5, chiusura 9.50, il titolo punta prima a 9.75, poi al massimo del 7 giugno 9.87 e mezzo. pur con un controvolore modesto scambiato, vincerei in watchlist high quality food, perché mi sembra che il titolo sia pronto per un rimbalzo, primo obiettivo 0.68, poi media mobile a 50, 0.69. mi ero perso, fatemi un attimo vedere, Powersoft, oggi ho fatto la spinning top, però io credo che minimo 14.50, 15.10 ci sia sempre il rischio per un ritorno a 13.20, attenzione. Ariston, finalmente qualche timida speranza su Ariston, perché quantomeno qui sta provando a lateralizzare. Il minimo storico è stato 3.67,6, se non dovesse perdere questo livello nelle prossime sedute, un ritorno almeno a 4.12,8 e poi a 4.28 è assolutamente possibile. Fiera Milano, Fiera Milano ancora molto bene, obiettivo 4.10, 4.11, poi 4.16 e mezzo. Buzzi, per il momento ha arrestato la sua discesa, è bastato il test del 2 di luglio della media mobile a 100. Adesso la media mobile a 100 è a 35,735, probabile nel breve turning range compreso tra 35,52 e 38,26. Concludiamo con due banche, i migliori, Banca Sistema, che sembra pronta per un rimbalzo con almeno 1,51,8, 1,59,2, e Credem, Credem oggi supera la media mobile a 50,961,2, primo obiettivo 9,90, poi massimo 20 di maggio 10,04. Adesso occupiamoci dei peggiori e dobbiamo assolutamente iniziare da i Vision Tech. Qua però devo dire che ero stato un buon profeta perché il titolo è in caduta libera, oggi perde nettamente anche la media mobile a 50, 1,59,5, chiude a 1,46, dopo un minimo 1,45, ma punta a target anche più in basso, 1,41, 1,36, poi c'è l'incrocio delle medie mobili a 200 e a 100, qui 1,24,9 quella a 200, 1,23 e 9 quella a 100, non ho avuto tempo di approfondire, ma ho letto che c'è un aumento di capitale, cioè la società vuole fare un aumento di capitale, per cui sarei estremamente prudente sul titolo. L'Erbolino, ve la faccio vedere, ma continua a essere in area di minimi storici, poi qui però parliamo di due titoli, combinazioni in sequenza, che vengono da rally importantissimi, quindi queste correzioni sono a mio avviso fisiologiche, WIC che potrebbe ritracciare fino a 22,05, poi 21,6, 21,3, eventualmente anche 20,7, e Juventus che ha fatto un rally davvero incredibile di breve, oggi probabilmente ha chiamato un'uscita con questa brutta in Gulf in Beric, 2,33, 2,27, 1 i prossimi obiettivi. Vediamo impianti, continuo a quel trading range stretto direi, oggi non è neanche scambiato, no oggi non è neanche scambiato, scusatemi. Poi ecco, probabilmente per Abitare Inn c'è stata una reazione tardiva alla smentita per l'accessione alla società avvenuta venerdì, oggi fa un ammerino, minimo 4,17, chiusura 4,28, va però a chiudere il gap da sotto aperto sul massimo di mercoledì a 4,19, siamo in trading range tra 3,93 e 4,50. Volumi modesti, ma probabilmente il titolo che è arrivato di breve, parlo di Clean D&B, primo obiettivo media mobile a 50, 1,33, poi 1,32 e mezzo, 1,30 e mezzo, direi anche media mobile a 100, ovvero 1,28 e 6. Poi c'è stata quella vendita importantissima su AC5, per carità staccava il dividendo, però addirittura il venditore è arrivato fino a servire 1,90 in maniera lettera 1,90, poi il titolo fa un bel ammer dopo un minimo 1,90, chiusura 2,01, recupera la media mobile a 200, 1,97 e direi che nelle prossime sedute potrebbe andare a chiudere il gap lasciato aperto a 2,10. Poi Farmanutra, Farmanutra brutta in Gulf in Berisch, il rischio è di rivedere il titolo a 46,3 e 46,2, poi sui minimi di periodo del 12 giugno 44,85. Sono un po' dispiaciuto, o meglio sono un po' arrabbiato con me stesso per la gestione di Amico, perché stavo pensando di chiuderla venerdì a 7,37, ho voluto aspettare oggi 7,17, in chiusura 7,14 di minimo, non posso concedermi oltre un 7,09, altrimenti poi c'è media mobile a 50, 6,96, minimo 26 giugno 6,73. GWS è solo, a mio avviso, una battuta d'arresto, trading range sempre 6,27, 6,87, però maggiori possibilità di tornare a 7,02, poi a 7,11. Zignago Vetro, nonostante la battuta di arresto odierna, questa brutta Marbozzo Black, 12,36, 12,04, chiude comunque sopra la media mobile a 50, 12,02, e rimane ancora possibile un ritorno sulla media mobile a 100, 12,55, poi abbiamo 12,78, 12,78 massimo del 30 di aprile. Aquafil, Aquafil continua a non riuscire a superare la media mobile a 200, che passa a 3,02, è trading range tra 2,84 e mezzo e 3,035. Eviso, Eviso mi pare stia per iniziare una fase di distribuzione, primo obiettivo 4,74, poi 4,65, quindi media mobile a 100, 4,47. Ancora venduta a Tessellis, Tessellis si avvicina alla media mobile a 100, 0,58,15, poi minimo del 31 di maggio 0,55,4. Seppur con volumi non elevati, guardiamo anche Garofalo, che a mio avviso rimane in un trading range stretto, compreso tra 5,04 e 5,22, quindi serve ancora direzionalità. È un po' che non ci occupiamo di DBA, che peraltro in ultime stute ha ridotto gli scambi. la mia idea è che voglio andare a testare area 280, dove poco sopra transita anche la media mobile a 50, per poi tornare a 2,75 e 2,74, quindi a 2,64 minimo del 20 di maggio. non vediamo se c'è ancora qualcosa di interessante prima di salutarci, poi mi raccomando magari datemi conferma che l'audio si è migliorato col cambio delle cuffie. Digital Bross, Digital Bross purtroppo sta facendo nuovamente fatica, direi trading range tra 8,50 e 9,32. Columi bassi, però guardiamo un attimo anche Filogen. Filogen è qui a rischio di perdere 19,80, riportarsi prima sulla media mobile a 50, 19,55 e poi 19,40, 19,35. Poi purtroppo Neo Experience continua a essere in grande difficoltà, vedete che non riesce a stare troppo distante dai minimi storici toccati del 17 giugno a 1,28. A CEA siamo invece ancora in trading range post-tacco e dividendo, compreso tra 14,82 e oggi ha fatto un massimo, poi è stata spinta, non da chiudere quasi sui minimi, a 15,52, a 15,19. Sembra un po' arrestarsi la forza di Salvatore Farragamo, quella di oggi è stata una brutta shooting star quasi gravestone doji, adesso probabilmente inizierà a muoversi tra 8,025, dove c'è un micro gap da chiudere e il massimo odierno di 8,81. C'è da dire che oggi il lusso ha sofferto, soprattutto Willitone e Kering hanno ritracciato piuttosto bene dai massimi di giornata. Doveliu, nonostante la quasi Marubazzo Black è ancora Candelinside, per cui c'è la possibilità di tornare fino a 2,13. IREN massimo di periodo 2,014 ma chiusura a 1,96,8 ha maggior ragione, quindi trading range compreso tra 1,904 e 2,014. poi concludiamo con una triade composta da safilo che al di là della battuta d'arresto odierna odierna può tornare a 1,10, 1,11,4 e poi media mobile a 50, 1,12,9, media mobile a 100, 1,14, a scopiave, a scopiave massimo di breve periodo a 2,40 ma chiusura a 2,35, anche in questo caso possiamo parlare di un trading range compreso tra 2,30 e 2,40. E concludo con Maire, Maire che sembra si stia indebolendo, primo obiettivo 7,18, poi abbiamo la media mobile a 107,085, quindi minimo del 14 di giugno 6,87. Con questo concluso auguro a tutti voi una buona serata e noi ci rivediamo domattina prima dell'apertura del mercato di urno. Grazie a tutti.